Ciao a tutti da CristianTJ, grandissima sorpresa, il grande e bravissimo Mirfa Livernini Eccolo, eccolo Ciao ragazzi Allora salutiamo tutti gli amici di YouTube Vai, YouTube BySpace Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp E poi cosa diciamo? Un saluto a tutti quelli che mi vogliono bene e su quelli che mi vogliono male Perché mica bisogna salutare solo quelli che ci vogliono bene amico mio Allora soprattutto salutiamo quelli che ci vogliono male Perché grazie a voi Eccoci qua, guarda come siamo belli E poi aspetta c'è un amico qua con noi oggi Grande sorpresa Il grande Max Ecco qua, grande sorpresa A chi ci vuole male? Se mettessi in fila A parte il scherzo ragazzi Oggi siamo qui per una manifestazione importante E per ricordare che la sensibilizzazione dell'essere umano È sempre qualcosa che fa piacere Sia regalare al prossimo che ricevere Quindi io posso solo dire Quest'anno abbiamo Vi faccio un po' di riprodurre Certo Quest'anno abbiamo fatto una cosa proprio per sensibilizzare il pubblico Che è l'eclociard La storia di un uomo che finisce per strada E va a vivere per strada con tutte le problematiche che ci sono ai giorni d'oggi in Italia Quindi abbiamo raccontato la storia di quest'uomo Proprio per far capire le debolezze e le fragilità dell'essere umano Però nello stesso tempo abbiamo raccontato anche la forza dell'essere umano E' importante sempre per risalire Si scende e serve per risalire E dai E' fatto benissimo Quindi ecco Max è uno degli attori che ha partecipato a questo oggetto Io oggi sono contento di essere qui Perché quando si fa beneficenza E noi dico quando si fa beneficenza Oggi si fa beneficenza E siamo in un giugno di fiducia E' bello Ciao ragazzi Ciao 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 Grandissimo Mirko Ricordini Max Gorgia Max Gorgia Ciao Ciao Ciao